Sono uno degli ultimi acquisti, un mese e mezzo che ero fermo, quindi mi sono aggregato al gruppo. 22 anni cresciuto tra Grosseto e Cesena, romagnolo di origine. Fino al 30 giugno dell'anno prossimo Alessandro Tonti vestirà la casacca bianco-rossa e difenderà i pali del Teramo Calcio. Il giovanissimo Tonti si dice pronto per un campionato sicuramente non facile ed impegnativo. Un campionato sicuramente difficile, impegnativo, tosto, ma noi ci dovremmo far trovare pronti, come è giusto che sia. Tonti è reduce da due annate da titolare in seconda divisione a difesa dei pali di Borgo a Bugiano e Forlì. Qui a Teramo si rimette alla volontà e alle scelte di mister Vivarini per coprire o meno la porta bianco-rossa con la maglia da titolare. Quello lì non sta a me decidere, abbiamo un mister apposta, io cerco di lavorare nel migliore dei modi, come penso il mio collega, e poi ci sarà chi dovrà decidere questo. Domenica intanto si disputerà la prima uscita ufficiale per i bianco-rossi, con l'incontro di Team Cup contro i Sud Tirol. Dovremmo andare in campo con la determinazione giusta, con la cattiveria giusta e piano piano inizieremo a giocare come vorrà il mister. Fondamentale sarà la forza del gruppo che per Tonti è più che sano e predisposto a fare bene in questa stagione. Un gruppo sano, un gran gruppo, si vede subito dall'inizio, sono molto contento di questo. Contento e determinato? Certo, sicuramente.